In provincia della Spezia si registra un calo dei reati compreso tra il 10 e il 15%. Sono i numeri che emergono sulla base dei dati registrati al Ministero dell'Interno in seguito alle denunce raccolte dalle forze dell'ordine e resi noti dal prefetto Garufi al termine dell'ultimo comitato ordine e sicurezza che si è tenuto questa mattina. 9.452 reati registrati nel 2017 a fronte di un di 9.873 nel 2016 che nella media nazionale significa 40 reati circa ogni mille abitanti. Il prefetto si è anche focalizzato sulle singole città della Spezia e Sarzana. Nel capoluogo i reati sono calati da 5.145 a 4.963. Quest'anno supereranno di poco i 4.000 di cui 2.079 sono i furti che nel 2018 non arrivano a 1.900. A Sarzana il picco di reati è stato registrato tra il 2016 e il 2017 quando passarono da 1.495 a 1.533. Il dato non definitivo per il 2018 oscilla tra i 1.200 e i 1.300. Nel corso dell'anno da poco concluso i controlli stradali in provincia sono aumentati a livello esponenziale e proseguiranno su questa strada inserendo una nuova pattuglia per fascia oraria.